Sì, è un grande salone che torna a Torino dopo tanti anni, siamo molto contenti, grazie a Andrea Levi che ha stato molto determinato, ma anche alla visione delle istituzioni, la Regione e il Comune di Torino e la Camera di Commercio che insieme abbiamo voluto portare di nuovo l'auto protagonista a Torino. Ma non solo perché è un fenomeno di attrazione per tutti, ma anche perché dentro ogni auto c'è un petto, o quasi tutte insomma, c'è un petto fatto nella nostra regione, fatto da aziende, da lavoratori, da famiglie che per anni e anni stanno lavorando intorno al mondo dell'automobile, della mobilità. Dove sapete che ci sono più di 750 aziende, più di 50.000 persone che lavorano nel mondo dell'auto, nella componentistica e oltre il 34% è qui in Piemonte. Quindi per noi rappresenta qualcosa che non solo l'evento, lo show, ma anche lavoro, economia e vogliamo che continui e rimanga protagonista in questa regione, in questa città.